Come affrontare la velocità della vita. Affrontare la velocità della vita può essere una sfida. Ma ci sono diverse strategie che puoi adottare per gestirla in modo più efficace. Ecco alcuni suggerimenti. 1. Organizza le tue priorità. 2. Focalizza la tua attenzione sulle attività e sugli obiettivi più importanti. Identifica ciò che è essenziale nella tua vita e dedica tempo e risorse ad esso. 2. Stabilisci obiettivi realistici. Imposta obiettivi raggiungibili e suddividili in piccoli passi. Questo ti aiuterà a mantenere il focus e a evitare di sentirsi sopraffatti dalle responsabilità. 3. Pratica la gestione del tempo. Impara a pianificare il tuo tempo in modo efficiente. Utilizza un calendario o un'applicazione di gestione del tempo per tenere traccia delle tue attività e impostare scadenze realistiche. 4. Impara a delegare. Non cercare di fare tutto da solo. Delega compiti e responsabilità a persone fidate o cerca aiuto quando ne hai bisogno. Ciò ti permetterà di liberare del tempo e concentrarti sulle attività più importanti. 5. Fai una pausa e prenditi cura di te stesso. È fondamentale dedicare del tempo al riposo e al relax. Pratica attività che ti aiutino a ridurre lo stress. Come lo yoga. La meditazione o l'esercizio fisico. Mantieni uno stile di vita sano. Che comprenda una dieta equilibrata e sufficiente riposo. 6. Imposta limiti tecnologici. Le tecnologie come gli smartphone e i social media possono contribuire alla sensazione di essere sempre connessi e inseguiti dal tempo. Imposta limiti di utilizzo e prenditi regolarmente dei momenti di distacco digitale per favorire la tranquillità e la concentrazione. 7. Coltiva relazioni significative. Investi tempo ed energie nelle relazioni che sono importanti per te. Come la famiglia e gli amici stretti. Il supporto sociale può aiutarti a rilassarti e ad affrontare lo stress in modo più efficace. 8. Sii consapevole del presente. Pratica la consapevolezza e vivi nel momento presente. Focalizzati sulle attività che stai svolgendo. Senza divagare con pensieri sul futuro o sul passato. Questo ti permetterà di apprezzare di più la vita e di ridurre lo stress. 9. Pratica la disciplina digitale. Riduci le distrazioni digitali limitando il tempo trascorso sui social media. Le notifiche push e le email non urgenti. Imposta periodi di tempo dedicati al lavoro concentrato senza interruzioni per massimizzare la tua produttività. 10. Sviluppa abitudini di gestione dello stress. Trova tecniche di gestione dello stress che funzionano per te. Come la respirazione profonda. La scrittura. L'arte o l'ascolto di musica rilassante. Dedica del tempo ogni giorno per praticare queste attività che ti aiutano a rilassarti e rigenerarti. 11. Impara a dire di no. Non sentirti obbligato a dire sì a ogni richiesta o impegno che ti viene proposto. Impara a stabilire limiti sani e ad accettare solo ciò che puoi gestire senza sovraccaricarti. 12. Mantieni una mentalità flessibile. La vita può essere imprevedibile e le cose possono cambiare rapidamente. Coltiva una mentalità flessibile che ti permetta di adattarti ai cambiamenti e di trovare soluzioni creative quando le cose non vanno come previsto. 13. Sì selettivo con le informazioni. Con l'abbondanza di notizie e informazioni disponibili. Cerca di selezionare attentamente ciò che leggi. Ascolti e guardi. Cerca fonti affidabili e limita l'esposizione a contenuti che possono alimentare ansia e stress. 14. Pratica l'autocura. Dedica del tempo a te stesso ogni giorno. Ciò può includere attività come la lettura di un libro. Fare una passeggiata nella natura. Fare una doccia rilassante o qualsiasi altra cosa che ti porti gioia e tranquillità. 15. Cerca supporto professionale. Se senti di essere sopraffatto e che la velocità della vita ti sta influenzando negativamente. Non esitare a cercare l'aiuto di un professionista. Un terapeuta o un coach possono fornirti strumenti e strategie specifiche per affrontare lo stress e migliorare il tuo benessere complessivo. Ricorda che affrontare la velocità della vita è un processo individuale e ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un'altra. Sperimenta diverse strategie e adatta il tuo approccio in base alle tue esigenze personali. Ricorda anche che ogni individuo ha il proprio ritmo di vita e che è importante trovare un equilibrio personale che funzioni per te. Prova diverse strategie e scopri quali ti aiutano maggiormente ad affrontare la velocità della vita nel modo più sano e soddisfacente possibile.